buongiorno domenica mattina quarto giorno di fiera cavalli della 125esimo a fiera cavalli noi a cavallo magazine siamo qui con federico forci e un nutrido gruppo di ragazzi e ragazze che bello cosa avete combinato federico quest'anno qui in fiera buongiorno e quest'anno abbiamo portato in fiera un carosello un carosello con sei cavalli tre cavalli mare e mani e tre cavalli di monte rufoli e nulla loro sono i protagonisti insieme a me di questo carosello e quest'anno per loro è la prima volta in assoluto per qualcuno la prima volta in assoluto arrivare alla fiera e quindi chiederei più a loro cosa cosa in tutto questo però abbiamo fatto un percorso quest'anno abbastanza importante ho cercato di prepararli perché fiera verona non è la classica lo classico spettacolo che può essere un paesano o altre fiere fiera verona è l'apice in tutto questo portiamo un carosello niente mettiamo a confronto due razze autoctone due razze che come sai benissimo per me sono sono parte della mia storia e oltre a questo porto anche un altro numero che è il numero in libertà con tre razze quest'anno ho inserito oltre al mare a mano e al monte rufolino ho inserito il cavallo tolfetano nella speranza di riuscire a fare entrare sempre più razze italiane nel mio nel mio branco e nulla e cerchiamo cerchiamo con questa cosa di trasmettere soprattutto che dobbiamo partire da loro dobbiamo partire da loro ho avuto tanti messaggi in questi giorni di chi ha visto persone che non mi conoscevano su instagram mi hanno scritto hanno detto finalmente ho visto portare dei bambini a cavallo a fiera verona e per me è un bel regalo ti tolgo il microfono perché volevo ricordare i nostri amici di cavallo magazine federico forci come potete notare dal suo abbigliamento forse ricorderete è fortemente legato alle tradizioni della maremma della monta da lavoro ed è bello che le tradizioni continuano a vivere avendo dei ragazzi così abbiamo fiducia nel futuro chi vuole parlarmi di voi quattro chi ha voglia di dire qualcosa chi alza la mano alzate la mano chi voglio parlare basta allora ve lo chiedo come ti chiami sofia ciao sofia quanti anni hai 12 e che cosa fai con federico con chi monti falco che cavallo è falco vanno mare in mano ti piace sì perché boh è bello stupendo adesso mi alzo io ciao come ti chiami agnese e che cosa fai con federico con i vostri cavalli facciamo la monta più che altro in libertà e anche senza c'è senza staffe nello spettacolo e poi facciamo un carosello cosa chi cavallo monti tu artù e chi è è un monte rufolino ti piace perché perché è bravo e da abbastanza retta ciao come ti chiami valerio quanti anni ai 9 chi monti nello spettacolo e che cavallo è fernando un cavallo va molto veloce è suo è lei proprio però lo uso io perché le lasci montare il tuo cavallo bravo che va veloce ti piace che monte rufolino ciao come ti chiami alessia dieci che cavallo monti durante lo spettacolo riviera che tipo di cavalla è viera monte rufolino perché ti piace perché è molto dolce e vi piace il numero che fate siete contenti di quello che fate con federico sì molto pensavate di riuscire a fare una cosa così complicata prima no poi piano piano quando ci siamo un pochino più allenati si vede comunque la via riuscita ma tu che parte fai? vai veloce? sì sempre la risposta abbiamo capito uno che fernando è veloce due che i monterufolini sono veloci tre che c'è qualche ragazzino che ama la velocità come sono? Com'è vederli al lavoro questi ragazzi? è già un problema sentirli parlare qui sono bimbi fantastici soprattutto sai io non sono l'istruttore che è carino che dice a tutti i bravi come la soddisfazione più grande credo l'abbiamo ottenuta qua però prima di arrivare qua hanno sputato il sangue loro come istruttore Federico? è burbero tanto però ci insegna tanto e ci aiuta anche tanto il fatto di sapere che ti insegna tanto ti aiuta anche a capire il perché lui è burbero forse? sì perché vuole che impariate? eh sì raccontami una cosa dove vi troviamo se vogliamo vedervi? ci trovate al padiglione 10 nel ringaia e oggi ci esibiamo ancora il monte rufolino non so ma con il maremano mi esibisco in libertà circa alle 13 e 15 e insomma gli orari più o meno sono quelli da definire noi vi ringraziamo tanto perché avevamo tanta voglia di vedere qualcuno di giovane sorridente entusiasta soprattutto veloce per cui abbiamo fiducia sì aspetta soltanto volevo soltanto dire che sono quattro giorni che diciamo che dobbiamo crescere dobbiamo imparare anche loro stanno crescendo stanno imparando e sono il nostro futuro quindi grazie dietro a tutto questo c'è non ci siamo solo noi ma c'è tutta una squadra importante c'è la regione toscana c'è l'associazione del Cavalino Monterufoli ANAM abbiamo con noi anche i butteri dell'alta Maremma in questo progetto che hanno fatto di Galà e abbiamo tante persone tra cui quest'anno a fianco a me è venuto ad aiutarmi Emanuele Baffetti che insomma ormai e lui abbiamo un rapporto quasi carnale molti pensano anche male di lui però insomma quest'anno ci abbiamo tanta forza tanta tanta forza voi l'avete sempre in Maremma la forza quindi su questo non ho assolutamente dubbi vi ringrazio tanto mi è piaciuto un tanto stare con voi spero di riuscirvi a vedere oggi grazie, grazie Federico grazie ragazzi e tutti